Lo scopo di C.C.S. è permettere a tutti noi di produire fiction e documentari. C.C.S. si struttura come un gruppo di pari che interagisce attraverso un canale. Ciascuno di noi può postare un'idea per un corto o un documentario, ma magari una serie. Che so, per esempio prendendo spunto da un sogno e proporre così la realizzazione. Attraverso il canale può nascere un gruppo di lavoro, volto a realizzarlo, e così un sogno diventa realtà. E' così che ha avuto origine la serie Dreamer, il padrone democratico, Abdachio, la signora Frela e il signoripponza suo genere, un breve documentario Luigi Prendello e il Dio Cara. In questi anni abbiamo realizzato oltre 100 video, di qualità sempre migliore. In questo modo aiutiamo anche i ragazzi presi dalla strada ad avvicinarsi al mondo della recitazione, della regia e della produzione di video in generale. Purtroppo le nostre attrezzature sono soggette a continua obsolescenza, oltre che a un lento deterioramento. Siamo molto attenti a non rovinarli, ma l'uso porta comunque ad un continuo decoramento. Per continuare a realizzare video di qualità sempre migliore, per permetterci di partecipare a concorsi cinematografici, abbiamo bisogno di varie cose, tra cui passare a 4K. Ciò significa non solo dover acquistare nuove camere, ma un computer per il montaggio. Per fare tutte queste cose, noi chiediamo il tuo aiuto. Puoi aiutarci senza spendere un euro, donandoci il tuo ciclo per mille. È semplice, basta che specifici il nostro codice fiscale, 93 06 59 50 615. Grazie. Grazie.